amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo una delle n golf questa è una 7.5 col motore 1500 da 150 cavalli con il classico stage 1 motore quindi sempre un cliente che ha approcciato dall'inizio il mondo delle preparazioni e come spesso dico iniziano sempre principalmente dalla parte motore allora partiamo dallo scarico quindi classico duplex della ragazzon omologato con le due uscite da 102 in questo caso questo tipo di macchina usciva con l'uscita solo a sinistra quindi oltre a montare i terminali abbiamo cambiato anche la bandella quindi c'è una o damper dam quello che vuoi che vogliamo questo è la stessa banale non è originale perché si spende un pochino meno ma comunque esattamente sulla stessa dima della golf gt che esce appunto la golf gtd che dir si voglia che esce con le due asole già perfette l'alternativa sarebbe stata modificare la sua il suo sottoparaurti facendo un incavo diciamo sulla parte destra in modo da far uscire le due come facciamo spesso è chiaro che con questo tipo di soluzione da un punto di vista estetico e qualitativo il lavoro chiaramente ne beneficia molto ovviamente c'è un costo leggermente diverso però direi che così la parte estetica è perfetta quindi come dicevo terminale duplex omologato dove noi rilasciamo appunto la cardio omologazione e il centrale diretto in questo modo la sonorità ne guadagna sempre entro certi limiti perché comunque anche facendo il centrale diretto la rumorosità rimane sempre dentro nei 92 decibel poi la parte diciamo elettronica la parte elettronica come ho spesso spiegato si può gestire in diversi modi in questo caso la macchina un 2017 quindi è un fuori garanzia quindi il cliente ci ha chiesto di modificare l'elettronica della centralina principale quindi come vedete il mio collega appunto questo tipo di centralina non è possibile gestirlo tramite la presa obd che è la soluzione più comoda e più rapida dove noi possiamo tutto questo tipo di lavori si svolge sostanzialmente con una determinata procedura bisogna leggere quello che è il file originale in maniera tale da poterlo scaricare dopodiché come tutti i preparatori sono collegati con una software house noi utilizziamo il software della dim sport quindi i software che uno dei software più famosi che o più utilizzati che ci sono in circolazione che ne viene letto e scaricato il file viene inviato presso il la software house che vedendo il telai vedendo la tipologia di centralina poi bisogna chiaramente specificare che tipo di modifiche noi vogliamo fare in questo caso avendo fatto la linea di scarico abbiamo chiesto di fare delle piccole modifiche a livello di pressioni se la macchina è completamente stock si usa il file diciamo base che è quello che è stato sviluppato su questo tipo di motore dicevo la caratteristica di questa centralina che non si può fare attraverso la presa obd ma bisogna proprio smontarla come vedete il mio collega la monta sul banchetto quindi vedete che vanno collegate a seconda dello schema che noi abbiamo tutte le varie periferiche in maniera tale da poter scaricare il file cioè leggerlo scaricarlo recuperare inviarlo recuperato il file modificato stessa procedura al contrario e si carica il nuovo software sulla centralina dopodiché sempre attraverso la procedura che vedete la centralina viene ricollegata con questo pettine che è quello che appunto bisogna stare attenti perché ha questi pin molto delicati quindi la procedura di aggancio deve essere sempre fatta in maniera molto delicata in questo caso la macchina ritorna a essere gestita da una centralina con delle caratteristiche diverse quindi sostanzialmente una macchina del genere che nasce con 150 cavalli la mappa che noi abbiamo sviluppato dovrebbe garantire 28 cavalli e 50 newton metri di coppia quindi sempre nei limiti di affidabilità non facciamo come sapete noi spesso lo diciamo non facciamo mai mappe troppo esasperate cerchiamo di fare delle mappe soprattutto dichiarando delle potenze che siano reali perché tante volte ci capitano dei clienti che ci dicono ma come sono andato dal signor X tanto senza fare nomi mi dice che su questa macchina mi dà 50 60 70 cavalli e noi tutte le volte diciamo guarda noi ti diciamo esattamente quelli che sono i cavalli reali che tu puoi ottenere poi se vuoi seguire quelli che sono diciamo delle informazioni fuorvianti e vedi tu di fare quello che vuoi però ecco la maggior parte dei clienti capiscono che spesso vengono dichiarate potenze non corrette e quindi seguono poi alla fine quelli che sono i nostri consigli io adesso vi farei prima di chiudere sentire la parte del sound ecco ovviamente rispetto ad altre macchine rispetto al filmato uno dei filmati precedenti dove abbiamo fatto sentire una mini Cooper S con lo scarico completamente aperto ovviamente la sonorità è più ridotta uno perché ovviamente a freddo non si può la macchina limita il numero di giri quindi non si può arrivare oltre un certo numero di giri ma soprattutto perché ovviamente è una macchina che ha una cubatura piccola e con lo scarico appunto con il discorso di avere lo scarico omologato più di tanto non si può ottenere comunque rispetto alla configurazione originale per chi ha questo tipo di macchina può capire la differenza rispetto allo scarico originale io direi che anche per oggi è tutto anche per questa Golf 7.5 è tutto come al solito vi invitiamo a contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì allo 0273 83 175 io sono Luca sono sempre a disposizione per qualunque consiglio andatevi a vedere il sito www.9000giri.it all'interno del quale troverete più di 3600 schede vettura sono di Golf ho fatto un calcolo l'altro giorno ce ne sono più di 300 quindi potete farvi una cultura su tutto quello che noi facciamo sulle sulle Volkswagen cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao 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 ciao